Merendero di Cio, zona per saccare la testa, per rilassarvi, zona barbecue ovviamente con tavoli, tutto attrezzato, bagni, giochi per bambini, tantissimi barbecue, insomma un posto se volete saccare la spina, rilassare la mente, venite qua per mangiare dell'ottima carne e si sta da dio. Siamo a 1600 metri di altitudine, sopra a livello del mare, fa un po' più freschetto, ci sono circa 7 gradi oggi ma è una bellissima giornata, vi faccio vedere qualche clip della zona, consigliatissimo. Qui legnetti per il barbecue, per il fuoco e aghi di pino, acqua, tavolini, tantissimi e tantissimi barbecue tra i pini e bagni pubblici molto importanti. Buon appetito! Grazie! Grazie!